Credo che sia una giornata importante a cui va data la massima attenzione, le donne vanno rispettate. Oggi è un giorno importante anche perché abbiamo due processi importanti che si celebrano, uno per Giulia Cecchettin e l'altro invece è per Giulia Tramontano e per Giulia Tramontano oggi dovremmo avere anche la sentenza. Spero che non dobbiamo parlare più di questa giornata, spero veramente che ci sia la possibilità nelle future generazioni di capire che non ci deve essere differenza, che l'amore non è possesso, che l'amore non deve essere ingombrante. Occorre rafforzare la rete sociale, non bisogna lasciare le donne sole a dover decidere se denunciare o meno, soprattutto poi a riferire i fatti ulteriori che sono avvenuti e a lasciarle senza sentire una tutela intorno a loro. Se si rafforza la rete sociale, certamente l'emersione dei fatti reato sarà maggiore. Buongiorno a tutti, grazie per aver concesso la parola anche a noi. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.